Sono i temi della settimana di preghiera per l'unità dei cristiani, lo sfondo delle parole di Papa Francesco durante l'incontro venerdì 17 gennaio con la delegazione ecumenica della Chiesa Luterana di Finlandia. Tra le pietre e miliari dell'ecumenismo il pontefice indica l'esperienza dello stare insieme e l'ospitalità. Come cristiani battessati noi crediamo che Cristo vuole incontrarci proprio in quelle persone che nella vita hanno fatto un naufragio, in senso letterale e in senso figurato. Chi offre ospitalità non diventa più povero ma più ricco. Chiunque dona riceve a sua volta. Infatti l'umanità che mostriamo agli altri ci rende misteriosamente partecipe della bontà di Dio fattosi uomo. Prima di questa udienza, celebrando la messa a casa Santa Marta, il Papa aveva riflettuto sulle malattie dell'anima. Per difendere la salute del cuore aveva osservato la medicina più importante è quella di chiedere il perdono. Una cosa semplice, ma che Gesù ci insegna quando vale l'essenziale. L'essenziale è la salute, tutta del corpo e dell'anima. Custodiamo bene quello del corpo ma anche quello dell'anima. Andiamo da quel medico chi può guarirci, chi può perdonare i peccati. E Gesù è venuto per questo, ha dato la vita per questo. La giornata di sabato 18 gennaio è scandita dall'incontro con una delegazione di pescatori di San Benedetto del Tronto. Francesco chiede che il lavoro della pesca, spesso rischioso e duro, sia valorizzato salvaguardando diritti e legittime aspirazioni. All'Angelus di domenica 19, Francesco prega per la crisi in Libia, paese colpito da un sanguinoso conflitto interno, e lancia questo accorato appello ai negoziatori. Cari fratelli e sorelle, Oggi si svolge a Berlino una conferenza volta a discutere della crisi in Libia. Auspico vivamente che questo vertice così importante sia l'avvio di un cammino verso la cessazione delle violenze e una soluzione negoziata che conduca alla pace e alla tanto desiderata stabilità del Paese. Celebrando il 20 gennaio la messa del mattino a casa Santa Marta, il Papa sottolinea che quando ci si ribella la volontà del Signore, si trasforma la sua parola in ideologia e si cede alla superbia e all'idolatria. Più tardi, nella sala del concistoro, il Papa riceve in udienza una delegazione del centro Wiesenthal. Con loro ricorda le tragedie legate a ideologie totalitarie che hanno segnato la storia delle Novecento ed esorta a seminare pace, a coltivare il terreno della fraternità, soprattutto di fronte alle barbare recrudescenze dell'antisemitismo. Il consumismo odierno è anche verbale. Quante parole inutili, quanto tempo sprecato a contestare e accusare, quante offese urlate, senza curarsi di quel che si dice. Silenzio, invece, aiuta a custodire la memoria. Se perdiamo la memoria, annientiamo il futuro. L'anniversario dell'indicibile crudeltà che l'umanità scoprì 75 anni fa sia un richiamo a fermarci, a stare in silenzio, a fare memoria. Ci serve per non diventare indifferenti. Martedì 21 gennaio, durante la messa a Casa Santa Marta, il Papa ricorda che l'essere cristiani, sacerdoti o vescovi è un dono gratuito delle Signore che non si compra. E il giorno dopo, all'udienza generale del 22 gennaio, incentrata sulla settimana di preghiera per l'unità dei cristiani, Francesco indica un altro aspetto della fede. Mostrare l'amore di Dio alle persone più indifese, come i migranti, vuol dire accoglierli. Possiamo e dobbiamo testimoniare che non ci sono soltanto l'ostilità e l'indifferenza, ma che ogni persona è preziosa per Dio e amata da Lui. Le divisioni che ancora esistono tra di noi ci impediscono di essere pienamente il segno dell'amore di Dio. Lavorare insieme per vivere l'ospitalità ecumenica, in particolare verso coloro la cui vita è più vulnerabile, ci renderà tutti, tutti cristiani, protestanti, ortodossi, cattolici, tutti cristiani. Ci renderà esseri umani migliori, discepoli migliori e un popolo cristiano più unito. Grazie a tutti.